Iaia, il nomignolo con cui veniva chiamata Iole Santelli, la prima presidente donna della regione Calabria, scomparsa il 15 ottobre del 2020, otto mesi dopo la sua elezione. Nasce così lo scrigno di Iaia, un cofanetto con all'interno prodotti agroalimentari calabresi, per contribuire in piccola parte a migliorare la vita quotidiana dei malati oncologici. Promossa dall'associazione iolesantelli.org per iniziativa delle sorelle di Iole, Roberta e Paola, lo scrigno di Iaia parte dall'idea che una maggiore attenzione alimentare può essere di grande aiuto per i pazienti oncologici. È un progetto realizzato con Iole e per Iole, ha spiegato Roberta. È tutto molto studiato, siamo partiti dall'assunto che l'alimentazione gioca un ruolo primario nella prevenzione e nella cura, non solo delle patologie tumorali. È un sogno di speranza, non è di solidarietà, ma di vicinanza, di calore, un invito a continuare a credere nella vita. Sapori e profumi della nostra terra, perché olfato e gusto sono i sensi quelli che vengono meno nel post-terapia. Completa la dotazione dello scrigno un diario, come supporto psicologico cui affidare i propri stati d'animo e le difficoltà. Per il presidente della giunta, Roberto Occhiuto, lo scrigno vuole ricordare Iole Santelli in una dimensione molto caratteristica e racconta Iole era molto solidale con quelli che soffrivano e quando descriveva la Calabria, così come fa questo scrigno, non parlava dei problemi che affligevano la nostra regione, ma delle opportunità e qualità.